Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Arturo, buongiorno. Ti chiedo da attaccante. Lukaku 4 gol 5 assist. Finora uno ogni 165 minuti, quindi praticamente ogni due partite un gol lo fa. Però è molto criticato perché non dà l'impressione di partecipare tanto al gioco. L'ultima partita non ha brillato. Tu che idee ti sei fatto sul rendimento di Lukaku? Intanto bisogna fare delle premesse che sono secondo me d'obbligo. È un ragazzo che non ha fatto la preparazione con il Napoli, quindi era un po' immagini prima. E' chiaro che questo non fa la preparazione. Poi per la prestanza fisica che ha, per il fisico che ha, è chiaro che ti porti dietro dei problemi poi andando avanti. Quindi ci metti più tempo rispetto agli altri a dettare in forma. Però se andiamo a guardare tutto quello che è stato il contesto fino ad oggi, è stato un Lukaku fondamentale per il Napoli. Perché ha dato una leadership in campo, i suoi compagni si sono aggrappati a lui. E io credo che lui si sia messo a disposizione della Rosa, dei compagni, della squadra. È chiaro che, per la premessa che ti ho fatto poc'anzi, ha questo rendimento alto allenante, ma ha dovuto anche alla sua prestazione, alla sua prestanza fisica. Come se fosse un camion che ci mette più tempo a partire. Ma una volta che è in forma, credo che Lukaku sia un giocatore importante per il Napoli. Ma questo fa parte del percorso di crescita di questo ragazzo. Ti chiedo su questo, quanto secondo te lui deve crescere in termini di condizioni di brillantezza? Quanto la squadra lo deve aiutare di più? Perché i numeri del Napoli anche sul palleggio sono un po' inquietanti. Il Napoli è quarta per palle e presse nella propria metà campo. Ottava per percentuale di possesso palla. Per tenere la vetta e la classifica bisogna crescere anche in questi numeri? Assolutamente sì, ma le statistiche sono eloquente e sono chiare. Quindi ti portano poi a migliorare dove devi migliorare. Per quanto riguarda Lukaku e la squadra, io credo che entrambi debbano fare il proprio percorso. Lukaku è chiaro che si deve mettere del suo. E continuando a giocare, mettendo minuti sulle gambe e con gli allenamenti, credo che questo poi alla lunga porterà la forma ideale per Lukaku e riceverà poi dopo tutti i compagni e tutta la squadra. Però è chiaro che tutto il contesto, se andiamo a prendere la partita con l'Atalanta, non è stato solo Lukaku. Certo sì che lui era in riferimento lì davanti, quindi ha perso molte palle, non l'ha fatto respirare la squadra. Ma se andiamo a vedere è stato tutto il contesto di squadra che non ha funzionato. Quindi ci sta, perché l'Atalanta in questo momento è la squadra più in forma del nostro campionato. Perché ha un gioco asfissiante, ti viene a marcare uomo contro uomo in tutte le zone del campo. Se non sei lucido, se non sei reattivo con le gambe e con la testa, fai fatica con l'Atalanta. E si è visto. Poi è chiaro che gli episodi hanno giovato l'Atalanta, ma questo non vuol dire, perché poi l'Atalanta ha meritato ampiamente la vittoria. Ma io credo che sia un contesto di squadra da migliorare tutto, però credo che la classifica è una classifica importante, che nessuno, gli addetti ai lavori, ma io credo neanche l'ambiente Napoli potesse pensare a un avvio di stagione così brillante. È chiaro che ci sta a soffrire, lo fa l'Inter, lo fa la Juventus, l'ha fatto il Minen. Io credo che sia anche fisiologico. Nel contesto di squadra questo è l'andamento di Conte da sempre. Insomma, una squadra cignia, dura, che è difficile fargli golla, anche se con l'Atalanta è una presi tre. Però è questo. Io credo che il Napoli ad oggi deve essere soddisfatto del campionato che sta facendo, pur sapendo, e ne sono sicuro, che è il primo Conte a saperlo, che questa squadra deve migliorare in alcuni aspetti. Proprio sugli aspetti, contro l'Atalanta nella prima mezz'ora qualcosa di buono si era visto, il gioco sulle cadene laterali. Contro l'Inter, che non sta avendo le certezze difensive della scorsa stagione, che strategia secondo te utilizzerà Antonio Conte? Intanto l'Inter, la reputo oggi, anche con le difficoltà e con le statistiche non proprio a favore per quanto riguarda la fase difensiva, la reputo la squadra più forte del campionato. Poi per uomini, per Rosa e anche perché ha una panchina ampia di giocatori, secondo me, che possono determinare. è una partita che si gioca a viso aperto, sa che l'Inter ha un gioco collettivo importante, quindi bisogna stare attenti. Però il Napoli deve fare la partita di massima attenzione perfetta quando giochi uno scontro diretto, quando giochi contro una biglia. Il Napoli sono due squadre forti, quindi non certo che il Napoli parte imbattuto, nonostante come ti ho detto prima l'Inter, io la reputo la squadra più forte del torneo. Grazie Arturo, grazie mille per il tuo contributo. Alla prossima. A voi, alla prossima.